Oltre 90 comuni coinvolti, 70 manifestazioni concentrate in due mesi, quasi 5 milioni di euro raccolti in 30 anni con la sezione di Lecco dell'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare che da 19 anni detiene il record nazionale di donazioni. Lo avete capito, oggi in questa puntata di Unica Talk parliamo della Maratona Teleton che si prepara a mettere a segno l'ennesimo record di solidarietà. Geronimo Fontana, presidente UILDM Lecco, ben trovato e benvenuto nei nostri studi. Grazie, grazie dell'ospitalità, sì noi speriamo di sì perché i lecchesi comunque sono sempre stati molto generosi. Se in 30 anni, che questa è la trentunesima, abbiamo portato a Teleto 4 milioni e 700 mila euro. E io ho rotto un dato e ho detto quasi 5 milioni di euro. No, è che noi vogliamo superare i 5 milioni. Ci arriviamo, ci arriviamo e li superiamo. E' una cosa unica in Italia. Come hai detto te, ci sono 70 sezioni UILDM in Italia, la nostra è in primis da 21 anni. E' per quello che abbiamo invitato te perché sei un po' il volto di Teleton. Non sono tante le associazioni in campo, i volontari, chi lavora per questa maratona, però assolutamente la UILDM è un po' il simbolo di Teleton. Teleton che lo ricordiamo, raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie genetiche perché la ricerca è l'unica, forse non l'unica, ma sicuramente la risposta più importante. E' fondamentale la ricerca perché il nostro corpo può ammalarsi di 8 mila malattie genetiche, tre anni fa 7 mila. Questo dato dovrebbe far paura. E io vi garantisco che io ogni settimana come Presidente, ogni settimana conosco una malattia diversa. E' una cosa incredibile. Ma molto è stato fatto però. E sono i primi a meravigliarmi. Molto è stato fatto. Assolutamente sì. E le nostre soddisfazioni che lavoriamo da così tanto tempo sono proprio queste. Perché oggi noi siamo a 130 bambini guariti da tutto il mondo. Non siamo più noi che andiamo in America. Sono loro che vengono a San Raffaele di Milano, al Tijet. Perché noi abbiamo due laboratori. Il Tijet di Milano a San Raffaele e il Tijet di Napoli. E sono i più meravigliosi che ci sono nel mondo. E praticamente arrivano tutti lì. Bambini che una volta venivano definiti bambini bolla. Adesso, che una volta stavano sempre da soli. Adesso se ne stanno chiusi quattro mesi dentro una stanza sterile al 1000% con un genitore, viva Dio. E dopo quattro mesi se ne vanno a casa. Dovranno ritornare. Però ha 130 bambini di tutto il mondo. Che tipo di malattie? C'è tutte le malattie genetiche? La distrofia muscolare in particolare? Cioè quali scoperte? In particolare è questa. La distrofia? In particolare è questa. Però quello che bisogna sapere è che noi andiamo a guarire questi bambini con un virus. Quello che ci ha chiuso in casa per due anni. Praticamente usiamo il virus più piccolo, il più aggressivo, il più cattivo, il virus dell'HIV che fa un milione di morti ogni anno e nessuno ne parla poco. È affettato a 80 milioni. Noi lo puliamo e aggrediamo, la dico un po' così veloce, aggrediamo la cellula malata, la sostituisce con quella sana. Noi oggi di Teleton abbiamo 25 trial clinici. Vuol dire che siamo su 25 malattie diverse. Io spero che l'anno prossimo, torno qua, non dico che sono 7 malattie vinte, le hanno vinte i scienziati italiani. Perché noi non superiamo mai i 32 milioni, 32, qualcosa. La Francia 130, l'Inghiterra 120, più o meno i nostri stessi abitanti. Ma loro hanno vinto un cavolo. Noi abbiamo i migliori. E Gerolamo è sempre molto chiaro. Però il concetto è che grazie alle donazioni, grazie ai fondi raccolti. Gli studi stanno andando avanti e alcune malattie genetiche hanno una risposta, hanno una cura. Assolutamente sì. Voglio dire una cosa per ringraziare i Lecchesi, perché non siamo solo i primi in termini di raccolta, ma anche di donazione continua. Chi va al supermarche, chi va in piazza, vuoi dare 10 euro al mese? Beh, Lecco, tante, tante persone donano praticamente 10, 20, 30 euro al mese. E questi sono i soldi già disponibili. E Teleton quest'anno mette sul bilancio della raccolta, cioè dalla ricerca, 65 milioni. Io ho detto che ne raccogliamo 32. Sono tutte donazioni continue. Lecco è assolutamente meraviglioso. È portato un palmo di mano da tutti. Da tutti. Abbiamo detto, infatti, la Maratona Teleton, 70, 20, racchiusi in due mesi. Ma in realtà la Maratona è solo lo sprint finale di un anno di attività. Mette in campo, insomma, concerti, spettacoli teatrali, tornei, incontri. Poi quest'anno c'è una sottoscrizione a premi, se non sbaglio, grazie all'impegno delle società sportive della città. Anche quella è una bella novità. Ci sono in tutti i paesi, per esempio, c'è i due preseppi grandissimi di Burrini a Garlate, che è veramente una grande persona, e altrettanto lo è Marcello di Vercurago. E poi ci sono tanti spettacoli ammalgrati. Leggeri pure, tanto giusto questa è una trasmissione di informazioni. Quindi vogliamo dire ai Lecchesi dove possono andare per vedere qualcosa di bellissimo e nello stesso tempo per fare del bene, con una donazione. Prego, Gerolamo. Grazie, questa è una cosa bellissima. Sabato 3 dicembre i cappuccini per i bambini c'è il Mago di Oz. Sempre i cappuccini il 3 dicembre c'è il Burraco per gli appassionati. Come dicevo prima, all'8 dicembre si inaugura il preseppio di Burrini e alla Caterini, cittadini Nicolazio Corte, c'è il meraviglioso coro di linee armoniche, che sono ragazzi meravigliosi e sono sempre dal nostro fianco. E mentre siamo il 10 dicembre, a Malgrate, con un coro di Bellagio, di Bilacus si chiama, in chiesa praticamente. E poi, qua è l'invito veramente a tutti i lecchesi, il sabato 10 e domenica 11 in piazza Garibaldi e il 17 e 18. Questo è un modo di mangiare i nostri panettoni, pandori, veneziani, perché mentre si mangia questi si finanzia il nostro futuro. Perché io entro nelle scuole ogni anno, quest'anno sono ritornato a incontrare circa 5.000 studenti. Volevo proprio chiederti questo, tu sei un po' testimonia di Teleton. Intanto grazie a tuo figlio Fabrizio, che salutiamo, sicuramente ci sta seguendo da casa. Fabrizio è malato di sclerosi multipla fin da quando... Scusa, distrofia muscolare. Distrofia muscolare, scusami, tuo figlio è malato di distrofia muscolare fin da quando era piccolo, adesso ha 38 anni. Infatti. Lavora alla TS. Lavora alla TS ed è una grande fortuna perché, io dico sempre, che è vivo perché è motivato. Perché è vivo perché è motivato. E voi insieme siete un po' i testimonial del nostro territorio e andate nelle scuole, a incontrare ragazzi. Tu mi raccontavi che nella tua vita ne hai incontrato più di 80.000 ragazzi. Sì. Ed è un numero in difetto, probabilmente. Sicuramente sì. Domani io alle 9 sarò a Lierna, poi devo andare a Bellano e poi Dervio. E funziona così. Ieri tre ore ho fatto nella scuola Ticozzi, ma è stato bellissimo, ma bello, bello tanto. Noi la chiamiamo la maratona dei studenti. Giovedì scorso abbiamo cominciato col Bovara, Medardo Rosso, liceo. Io parlo un'ora. Ecco, cosa racconti a questi ragazzi? Io mostro quello che ti ho detto prima, come andiamo a guarire questi bambini, soprattutto. e la partenza di com'era la ricerca. Io sono uno dei tre italiani, ok, che è insieme a 12 in America, che ha fatto un trapianto. Perché negli anni 90, quando Fabrizio aveva sei anni, io mi sono rivolto ai ricercatori e gli ho detto io non voglio accettare vedere mio figlio che ogni secondo dalla vita diventa debole. E allora cos'era la ricerca? Allora la ricerca era, ok, a Fabrizio gli manca la distrofina che copre tutti i nostri muscoli, abbiamo 400 metri di muscoli, e perciò ogni secondo dalla vita diventa debole. Per fortuna il cervello non è un muscolo. E hanno detto proviamo e praticamente prendere la distrofina del papà, gliela diamo a Fabrizio. Io e i ragazzi... Quindi avete fatto questo trapianto? Sì, un bel giorno mi ha tagliato via un pezzo di muscolo, pesato. Mancava ancora una fetta per arrivare al peso necessario per creare 100 milioni di cellule. Mi hanno detto andiamo a correggere un pezzo di muscolo così. Ha dato 50 milioni di qua e 50 milioni lì. Ma hai servito? Allora io ero l'uomo più felice di questo mondo. Oggi dico grazie a Dio, perché le cose si capiscono col tempo, oggi dico grazie a Dio non ha funzionato questo, perché se avessero attecchito le mie celle e anche quelle in America, cosa sarebbe successo a Fabrizio? Non mi importa quanto carne dovevo dargli io, ma quante biossie, quante l'avrebbero distrutto. Però ci permette di salire, perché per arrivare a una cura è un mattone dopo mattone, non si arriva. Poi bisogna provare, no? Ci vogliono anche persone che abbiano la forza e il coraggio di provare qualcosa di sperimentare. Resta il fatto che Fabrizio ha 38 anni e possiamo dirlo è una delle persone malate di distrofia muscolare più longeve. Sì, ce n'è uno nelle Marche che ha 44 anni. Però ecco, Fabrizio è sempre fatto da cavia e io con lui e insomma abbiamo combattuto e forse è anche grazie a questa lotta che si fa giorno per giorno che lui è arrivato qua. Vorrei finire un attimo con praticamente le altre appuntative. Iniziative, assolutamente sì. Sabato 10 dicembre saremo con il CAI, Camera di Commercio, l'invito proprio a partecipare tutti. E dopo a San Carlo, la parrocchia, no, di San Giorgio, con il coro San Giorgio, la parrocchia di Acquate. E poi le due serate finali, no, al 15 c'è il coro dell'Avis di Lecco, perché l'Avis di Lecco è in prima persona, sarebbe a darci una mano. E saremo praticamente a Bellano per due serate, perché una non è abbastanza. E ci sono quelli che ballano, quelli che cantano. Bellano, non so se si sa. È il paese degli artisti. Ha un record molto importante. Raccoglie 7 euro pro capite. Per abitante. Per abitante. È l'unico in Italia. Lo portiamo ad esempio, ma se lo meritano, sono meravigliosi. E si combatte, si combatte, perché è una guerra veramente, ma soprattutto per quei bambini che nascono. Perché, ho detto 8.000 malattie genetiche, ma ogni 5 giorni nasce un bambino come Fabria. Non solo più malattie rare. Lui ce la farà. Lui ce la farà. Grazie, grazie Gerolamo. Io invito i telespettatori ad andare sul sito di Teleton, dove trovate tutti gli appuntamenti, tutte le modalità per donare. Mi raccomando, fatelo. È importante. Grazie a Gerolamo Fontana. Grazie a voi, che siete al nostro fianco da sempre. Ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di Unica Talk. Grazie a tutti.